Sei pronto a raccontarci la tua storia? Noi siamo tutto orecchie e non vediamo l'ora di scoprire tutte le tue passioni, le tue qualità e quello che ti aspetti dalla tua prossima esperienza all'estero. My iSchool è la nostra piattaforma online tutta in italiano così da semplificarti la comprensione, il caricamento delle informazioni. Ricordati che il sistema ti permette di completare e salvare i dati ogni volta che entrerai così da non perdere nessuna informazione.